Una delle variante per i Negroni è sicuramente una variante più aromatica. Utilizziamo un vermouth diverso, vermouth macchia, un vermouth più aromatico che richiama i profumi del Mediterraneo. Ci sono bacche e foglie di mirto e agrumi della sardegna. Questo Negroni può essere bevuto anche dopo cena perché ha una componente aromatica nel vermouth, data dal mirto e dal moscato di Sardegna. È un finale amaricante. Raffreddiamo il nostro bicchiere. Coliamo l'acqua in eccesso. Aggiungiamo 30 ml di London Dry Gin. 30 ml di Bitter. E 30 ml di vermouth macchia. Nesceliamo i nostri ingredienti in modo tale da raffreddare e diluire. Decoriamo con una fettina d'arancia. E degli oli essenziali e scozi di limone. Negroni con vermouth macchia è pronto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.